Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nessuno si sarebbe mai aspettato un colpo così devastante, ma purtroppo, Orietta ci ha lasciati improvvisamente. La notizia della sua scomparsa è diventata virale, riflettendo l'importanza straordinaria che aveva all'interno della comunità di Viterbo. Orietta Febbraro, con i suoi 66 anni, ha trascorso gran parte della sua carriera come insegnante di lingua inglese presso il liceo classico e linguistico Mariano Buratti. La scuola non era solo un luogo di lavoro per lei, era una seconda casa, un ambiente in cui la sua professionalità si univa alla sua straordinaria sensibilità. La notizia della sua improvvisa partenza ha scatenato un'ondata di cordoglio, con messaggi che giungono alla sua famiglia come testimonianza tangibile di quanto fosse amata da familiari, studenti e colleghi. Orietta non sarà ricordata solo per la sua competenza accademica, ma anche per la sua capacità di creare un ambiente familiare, illuminando i banchi di scuola con la sua dolcezza. La sua assenza ha lasciato un vuoto profondo, rendendo difficile immaginare la scuola senza la sua presenza calorosa. Si apprende che la professoressa Febbraro ha lottato coraggiosamente contro una patologia che alla fine ha avuto la meglio. Il suo spirito generoso e la sua dedizione rimarranno dolci ricordi impossibili da dimenticare, gettando un'ombra di tristezza sull'intera città di Viterbo.